Abbiamo la parola al Presidente della Regione Puglia, Onorevole Michi Vendola. Comunque la si pensi, credo che tutti quanti vivano un sentimento di smarrimento in queste problemi. Qualunque sia l'idea politica che ciascuno di noi legittimamente coltiva, penso che possiamo immaginare di condividere questo scomento, l'ansia di essere collocati in un punto della storia d'Italia particolarmente buio, la paura che come altre volte è accaduta l'incrocio tra crisi sociale, emersione della povertà e crisi democratica possa trasformarsi in uno schianto della Repubblica, in una crisi dello Stato. Credo che tutti quanti noi dobbiamo avere questa consapevolezza di contribuire in queste ore, ciascuno con le sue idee, a tenere in piedi il Paese, a tenere in piedi la Repubblica. E per questo per me era naturale distire tanti appuntamenti, perché come potete immaginare è necessario stare laddove si decidono le cose fondamentali, ma un appuntamento per me non poteva essere rispetto ed era quello di questa mattina, perché in questi momenti vale davvero la pena concentrarvi in un'attività. Se volete trovare un angolo di consolazione oggi nella lettura dei giornali, forse vale la pena aprire le pagine culturali di Repubblica e leggere l'intervento di Umberto Eco sulla nascita dell'università come luogo di fondazione dell'Europa. L'Europa non è nata per ragioni naturali o metafisiche, non è nata dalle leggende e dai miti soltanto, è nata da una formidabile elaborazione, da una produzione di idee, da una produzione di visioni, di ambizioni. E mille anni fa, con la nascita della prima università in Europa, si è cominciato a costruire quella stratificazione di saperi e di consapevolezza che oggi noi chiamiamo Europa. Anche in questo contesto bisogna collocare questa vicenda di oggi. Certo per Foggia, penso di poterlo dire, si tratta di un'incredibile accelerazione sulla strada del proprio riscatto. Il polo biomedico di qualche giorno fa, il polo delle scienze umanistiche oggi. Ecco, già questo dovrebbe indurre una riflessione supplementare. Siamo in un'epoca in cui queste due realtà, quella che si iscrive nella dimensione tipicamente scientifica e quella che si iscrive nella dimensione tipicamente umanistica, sono realtà molto più comunicanti di quanto non fosse immaginabile ancora pochi anni fa. È come se nel laboratorio dello scienziato c'è sempre più bisogno di idee e coscienza critica da disumere dai saperi umanistici. Ed è come se nel laboratorio dell'umanista è sempre più prestante la domanda di saperi specialistici di tipo tecnico scientifico. E lo vediamo concretamente. Il laboratorio del nanotecnologo è attraversato dalle domande del poetico. Il filosofo, il pensatore e il lavoratore manuale si incontrano. Il rettore di questa università, quando fa il lavoro che ha amato di più in tutta la sua vita, il lavoro di archeologo, mescola abilità manuali e abilità concettuali. L'antica frattura tra lavoro manuale e lavoro concettuale e la separazione tra conoscenza scientifica e conoscenza umanistica possono oggi essere messi in discussione. Ci sono molte più cose tra cielo e terra di quante non ce ne siano nelle filosofie dei conservatori, di coloro che pensano che il mondo debba essere semplicemente mummificato. Il mondo si evolve e anche la nozione di conservazione oggi è una nozione viva, è una nozione non cieca, non autoreferenziale. Ecco, apriamo il polo umanistico a Foggia in un momento in cui la nostra regione, come tutte le altre regioni, vive una contesa sui temi di cui stiamo parlando. Non si pensi che qui si fa accademia, qui si fa politica, non politica delle appartenenze, dei partiti. Bisogna decidere se il patrimonio di beni culturali e di beni naturali e ambientali che abbiamo ereditato può essere in qualche modo o in mille modi e con mille sotterfugi privatizzato, può essere mutilato, può essere manipolato o se quel patrimonio invece è il fondamento medesimo dell'idea di nazione, di patria, di popolo, cioè quel patrimonio che è soprattutto legato alla peculiarità del rapporto tra territorio urbano e territorio rurale. Se quel patrimonio, la sua tutela è o no un pezzo, lo dico così, di un moderno patriottismo di cui c'è bisogno nel nostro paese. E questa contesa è nella Puglia, come in tutta Italia. E oggi per esempio legata al tema del paesaggio, dove noi credo che dobbiamo assumere delle decisioni cogenti se vogliamo tornare indietro, rimettere le lancette dell'orologio della storia pugliese indietro a prima di punta per occhi. Se vogliamo tornare in un'epoca in cui gli ecomostri sembrano effetti collaterali, o se invece possiamo evolverci in una chiave non punitiva nei confronti degli interessi privati. Parate, si tratta di chiudere una guerra fin troppo lunga tra pubblico e privato, dove di volta in volta l'uno si rappresenta come portatore del bene e l'altro viene rappresentato come portatore del male. Il pubblico come portatore di elefantiasi burocratiche di paradisi oppure portatore di vincoli vessatori. E il privato come portatore di interessi semigangsteristici. E' uno stereotipo che va superato. Ma anche l'idea che l'uno o l'altro, liberi da qualunque vincolo, possano salvare il paese è un'idea. Noi abbiamo bisogno di fare appello al privato, al suo protagonismo e alla convenienza del rispetto delle regole. Noi abbiamo parlato con i protagonisti del mondo economico e chiediamo loro se non è oggi economicamente conveniente mettere a tema lo stop al consumo di suolo. Se non è conveniente per ragioni economiche chiudere con l'idea mostruosa di un'espansione infinita delle città, laddove le città hanno bisogno di interventi di manutenzione, di riqualificazione, di recupero, di riuso del patrimonio costruito. C'è un punto, io credo, dirimente della storia nostra e guardiamoci sotto i piedi, guardiamoci, diciamo, non dimenticando neanche le tragedie che hanno disvelato, che hanno avuto la forza di essere un'epifania, fosse la tragedia di Pialeggiotto qui a Foggia o la tragedia della famiglia di Castano delle Murge inghiottita dal fango. Cioè, se noi non siamo in grado di mettere la Puglia e l'Italia di fronte a uno specchio, per vederne le brutture, per intenderne la genesi politica e culturale e per vederne le bellezze e per capire quali sono i nostri doveri pubblici nei confronti delle bellezze. Abbiamo avuto troppa suefazione nei confronti di un processo di selvaggia privatizzazione di beni comuni come la costa, come i corsi d'acqua, come le montagne, come i rivieni, come il patrimonio architettonico, il patrimonio urbanistico. Abbiamo avuto troppa suefazione. Abbiamo accettato che Pompei diventasse il simbolo della sciatteria e lo dico avendo qui vicino il ministro dei beni culturali che si sta battendo affinché si possa capovolgere quella vicenda nel suo contrario. Vedete, è francamente incredibile mettere piede nella cittadella archeologica più importante del mondo e vedere che ogni giorno cade un pezzo. Ieri ho fatto una visita da turista in alcuni quartieri della città di Roma e non ho mai avuto un senso di umiliazione così profondo. I grandi beni monumentali, i grandi palazzi per esempio anche dell'Euro, sono tutti quanti sottoposti in una condizione di castigo. Cade un pezzo di cornicione e viene imbraghettato. Non si fa nulla, non si fa più nulla. Le nostre città sembrano dei vuoti aperti, sono scheggiate, sono ferite, ci sono regioni che non hanno più territorio rurale. L'Appennino, oltre l'Appennino nella famosa Padania, cresce una teoria di capannoni industriali tutti svuotati che hanno però svuotato di funzioni quel territorio rurale. Sono problemi veri. Il fastidio che prova il sottoscritto per la forma dialogica del talk show è perché non ha mai incrociato questi temi dentro la contesa pubblica. Uno vorrebbe pure litigare, ma litigare su qualcosa che ha senso, che ha significato, appunto, raccontare di noi questo rapporto tra cultura e natura che è scritto dentro la carne del territorio italiano, di questa penisola. e finisco. Riflettevo sul fatto che virtù e conoscenza vengono poste davanti nello stesso verso. Nati non fumo per vivere come brutti, ma per cercare virtù e conoscenza. La virtù è un strumento per cambiare la realtà. Ecco, ho usato la parola che piace a Papa Francesco e che defume dal pensiero di San Dignancio. Discernimento. Forse il buio che inghiotte la politica è il buio del discernimento che non c'è. Ma il discernimento lo guadagniamo se rimettiamo al centro la ricerca della virtù attraverso la conoscenza. Oggi a Forgia noi facciamo un piccolo passo in avanti su questo sentiero.